Il Consiglio Comunale di Sanremo ha approvato a maggioranza il rilancio della pista ciclabile e salvataggio di Riveracqua. Nella seduta quindi sono passate le due maxidelibere relative ad Area 24 e al gestore unico provinciale del servizio idrico integrato. A esporre le due pratiche è stato l'assessore alle partecipate Massimo Rossano. Per rilevare da Area 24 l'acciclabile, la società Inause della nettezza urbana ha offerto 1,6 milioni di euro per l'acquisto dell'ex sedime ferroviario dei tratti compresi tra San Lorenzo al Mare e Taggia, mentre Ospedaletti non partecipa. Cifre ben più importanti quelle che caratterizzano l'operazione di salvataggio di Riveracqua, nella quale il Comune Matuziano ha giocato un ruolo decisivo. Sbloccando il conferimento del ramo idrico di Amaia e S.P.A., che avverrà tuttavia solo nel momento in cui il Tribunale validerà la proposta concordataria approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'atto imperiese. La garanzia della bontà della questione è che Area 24 si accogli le cause in essere. Sarà una pista ciclabile 2.0, dice l'assessore Rossano, grazie anche all'impegno del sindaco Bianchieri che ha ottenuto dal presidente della regione Totti un finanziamento in dieci anni di un milione e mezzo, finalizzato alla manutenzione straordinaria della ciclo pedonale. La votazione è stata preceduta dall'astenzione del gruppo 100% Sanremo e Tomasini ha chiesto delucidazioni su un piano finanziario ed economico della stessa almeno a sette anni. L'ascesa in campo di Filse rafforza l'operazione. Per questi e altri motivi, dice la nostra, è stata un'astenzione costruttiva, nonostante avremmo gradito essere coinvolti in modo più concreto. Anche la Lega si è unita all'astenzione mostrando di condividere l'idea dei colleghi di minoranza di dare al casino il turismo. Tornando al caso Riviera Acqua, la prossima settimana il Tribunale dovrà giudicare se la strada di rissanamento intrapresa della partecipata, e che attualmente presenta 26 milioni di euro di debiti e con un deficit annuo al dicembre 2018 di oltre 2 milioni, sia attendibile e difendibile. Il parlamentino locale ha approvato inizio seduta due ordini del giorno proposti dal gruppo Lega. Il primo proponente è la consigliera Federica Cozza, volto a dare priorità d'accesso agli uffici pubblici ai disabili, alle donne incinte, agli anziani sopra i 65 anni e quello presentato da Patrizia Badino, per l'attribuzione alle forze dell'ordine degli alloggi vuoti di proprietà comunale a canone da fissare.